presentati ciao io sono Cappello Federico ho 11 anni e vado in prima C cosa vuoi fare da grande? da grande vorrei fare un lavoro dove mi diverto e non sono sempre stressato o annoiato se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? vorrei raccontare di me gli sport che faccio che pratico quelli che mi piacciono di più io faccio alcuni sport come la barca a vela il golf il nuoto e il basket i due sport che mi piacciono di più sono la barca a vela e il golf perché sono sport tranquilli dove non ci sono persone che urlano che stanno dietro a dire dai corri oppure tira bene così e c'è molta tranquillità in questi sport quindi mi piacciono tanto soprattutto la barca a vela che l'ho iniziata da poco tempo questo settembre e mi ha molto appassionato il golf l'ho iniziato quando ero piccolo e la mia prima sacca era di colore giallo perché ci misuravano dall'altezza così concludo fai un appello al pubblico per farti votare votatemi perché uno bello come me non lo troverete mai wow Wow!